Ciao ragazzi, ho gradito molto, avete apprezzato un sacco il video che ho fatto in relazione alla guerra e gli effetti che avrà nel mondo del calcio perché come dicevo anche in quel video lì, in questa giornata qua pensare al pallone diventa un po' complicato, dall'altra parte capisco che sia anche uno dei pochi modi che abbiamo in tanti io mi metto al primo posto in questa speciale classifica categoria di non pensare effettivamente alle cose brutte, bruttissime che stanno accadendo in questo momento nel mondo e quindi cerchiamo di liberarci un po' la testa e cerchiamo di andare a discutere di queste cose qua parliamo di calcio anche perché anche la situazione della Juve in questo momento non è per niente rosea e lo sappiamo mi sono fatto un riassuntino legato agli infortuni e potrete anche monitorare gli aggiornamenti di quello che sto per dirvi perché domani è già vigilia, domani è già vigilia, di Empoli Juventus parlerà Massimiliano Allegri e se ci saranno delle novità le andremo a leggere su OneFootball il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione, potete anche scannerizzare il QR code che trovate in sovraimpressione tra l'altro su OneFootball oltre al link in descrizione vi lascio anche il link di un podcast di Generazione Fenomeni che parla di Dujan Blaovic che è un po' il punto fermo di questa Juventus, un po' l'uomo a cui aggrapparsi in questo momento duro anche per la Juve perché bisogna iniziare a far la conta, bisogna vedere in quanti siamo spoiler, siamo pochissimi Partiamo da quello che sapevamo e cioè Federico Chiesa, stagione finita, rottura del legamento crociato già operato, vediamo quando tornerà in teoria la prossima stagione, non so se da subito, in bucca al lupo fede tutte le volte ci tengo a farli assolutamente, però abbiamo delle novità perché purtroppo McKennie da Villareal si porta a casa la frattura del metatarso, stagione probabilmente finita, dico probabilmente perché ha otto settimane di recupero il che significa un paio di mesi, il che significa poi tornare in forma effettivamente molto complicato quindi non è ufficialmente finita la stagione ma non sarei stupito di vederlo poi l'anno prossimo tornare a calcare i campi da calcio io più ci penso, vabbè andiamo avanti Caio perché ha dell'assurdo quello che sta succedendo Caio, lesione del tendine rotuleo, stagione finita otto mesi di recupero operato adesso, intervento riuscito, otto mesi per il recupero otto mesi, sono tantissimi, tra l'altro questo è l'infortunio che ebbe anche il fenomeno Ronaldo, tra l'altro la storia di Ronaldo è particolare perché Ronaldo sta fuori per 4, 5, 6 mesi ora non ricordo bene il numero preciso torna e dopo una ventina di minuti si rompe completamente il tendine rotuleo Caio per fortuna ha avuto una lesione come all'epoca anche proprio Ronaldo è difficile, poi Ronaldo ha avuto anche un'altra rottura del ginocchio, dell'altro ginocchio quindi veramente stiamo parlando di follia purtroppo e Caio è stato molto molto sfortunato mi dispiace perché la sua prima stagione alla Juventus è stata datelo voi l'aggettivo cioè datelo voi l'aggettivo sotto tutti i punti di vista Bernardeschi, lo mandiamo a chi l'ha visto, non so che giorni lo fanno chi l'ha visto, forse il lunedì, forse siamo un po' in ritardo aveva un'infiammazione al pube settimane, settimane, settimane che diciamo sì adesso dovrebbe rientrare, settimana prossima forse rientra e siamo sempre qua, poi magari domani rientrerà però oggi anche le foto della Juventus, degli allenamenti Bernardeschi non c'era ad allenarsi quindi vediamo Alessandro, vuoi che non ci portiamo a casa due, tre infortuni da una partita di Champions problemi al polpaccio, quando torna? ma in teoria inizio marzo vediamo, c'era una decina di giorni di prognosi speriamo che possano essere mantenuti Giorgio Chiellini, i soliti problemi al polpaccio anche lui, adesso vedremo che ci saranno dei problemi al polpaccio e alla coscia che sono ripetuti, anche Giorgio dovrebbe rientrare inizio marzo ma siamo sicuri che sarà così? vediamo Rugani, elungazione alla coscia quando torna? Probabilmente inizio marzo poi non sono certezze, perché poi arrivi inizio marzo lo sai, fai una nuova visita di controllo sei ancora indietro, stai fermo altri giorni e nel frattempo noi continuiamo a giocare partite in emergenza soprattutto dietro, in difesa dove per fortuna ha recuperato Bonucci ma anche lui è un po' claudicante Allegri aveva detto a qualche minuto se c'è bisogno lo butto dentro se fa male anche a Alexandro siamo costretti a buttarlo dentro Di Bala, problemi alla coscia anche lui dovremmo parlarne inizio marzo tra l'altro in queste ore, in questi giorni ci sarà anche il CDA della Juventus in cui si deciderà un po' la situazione anche ai rinnovi secondo me saranno abbastanza attenti a monitorare quello che sta accadendo in queste settimane sul punto di vista degli infortunati perché ragazzi c'è questo bollettino è fuori di testa e allora che cosa pensi? che dovrai affidarti ai giovani soprattutto in difesa dove c'è questa emergenza difensiva e aggiungo io al centrocampo c'hai pure De Winter che è fuori lussazione alla spalla e vabbè ragazzi allora ditelo che si fa apposta però mai come in questo momento penso che tu sia obbligato a puntare sui giovani ma a puntarci nel senso che devono iniziare a giocare perché ragazzi io ho fatto due conti credo che la formazione titolare che avremo con l'Empoli sarà questa Scesni, Desciglio, Delit, Bonucci, Danilo, Locatelli Artur, Zaccaria, Quadrado, Vlaovic e Morata poi può cambiare qualcosa può giocare Pellegrini come terzino-sinistro può giocare Rabiot a centrocampo o può giocare Ken in attacco perché è finita lì protagonisti, aggregati, calciatori appartenenti alla prima squadra Juve gli undici titolari più i tre cambi di movimento più Perini e Pinsoglio finiti ce ne sono più meno che non recuperi Bernardeschi a meno che non recuperi qualcun altro siamo questi e di solito siamo qua a dire vabbè è difficile fare la formazione con qualche giorno anticipo no cioè questa è la formazione per forza di cose ci sono quei tre che sono fuori Rabiot, Ken e Pellegrini che magari possono entrare o il portiere che potrà giocare Perini al posto di Scesni ma a livello di giocatori in movimento siamo messi malissimo male, 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 male male, 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 male poi aggregati prima squadra io immagino Soulet immagino Ake e immagino Stramaccioni come aveva già fatto anche allenamento prima della Champions cercando questo giro di non a zoppare Rabiot perché senza McKennie poi siamo strettissimi lì al centrocampo perché già avevano cinque centrocampisti se giochiamo col centrocampo a tre non abbiamo neanche il backup assoluto adesso abbiamo quattro centrocampisti in totale se giochiamo a tre fate voi i vostri conti 4-4-2 fai fatica a farlo perché senza Bernardeschi non c'è neanche l'altro esterno a meno che non metti Ake o Soulet dall'altra parte però a sinistra non so nemmeno come si possano trovare e immagino verrà aggregato anche Miretti a questo punto perché ragazzi possiamo essere pochissimi quindi questa è la formazione titolare con anche eventualmente le riserve io immagino che questi saranno i convocati della Juventus poi magari verrà aggregato anche qualche altro calciatore delle giovanie dell'Under 23 però sicuramente la situazione della Juve in questo momento è tragica tragica perché non riusciamo nemmeno a fare un 22 cioè non riusciamo nemmeno a immaginarci se non voglio far giocare questo per le caratteristiche faccio giocare quella no no sei obbligato poi domani a mezzagiorno Parla Allegri conferenza stampa della vigilia sono curioso di vedere che cosa potrà dire perché secondo me abbiamo già detto tutto qua poi se ci saranno delle novità degli aggiornamenti qualche giocatore che torna prima dall'infortunio anche se quando tornano prima poi è sempre un disastro perché hanno una ricaduta e stanno fuori di più crociamo le dita con l'Empoli ci abbiamo anche già perso all'andata il problema è che non è solo l'Empoli il problema è che poi si continua a giocare a giocare a giocare e ormai tutte le partite sono pesanti i punti in palio sono pesanti se nella seconda parte di stagione non puoi più risparmiarti niente e dovrai farlo con metà squadra fuori tra cui Di Bala Chiesa Chiellini insomma giocatori anche di una certa importanza lo stesso McKennie fatemi sapere che cosa ne pensate aggiungo che secondo me in questo momento è Locatelli il giocatore da cui dobbiamo un po' ripartire a metà campo spostandolo in avanti e cercando di avere un po' più di fantasia negli ultimi metri perché se no senza anche lo spunto di McKennie siamo un po' rovinati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti